Quando era un uomo si chiamava David Thompson, poi però è diventata, quindi si è trasformata in Karen White. La trans in questione ancora non aveva portato a termine la trasformazione a donna completa e sarebbe stata accusata di stupro perché avrebbe violentato una donna quando ancora era David Thompson. Sarebbe finita in carcere, messa all'interno di un carcere femminile e avrebbe abusato addirittura di due detenute. Ci troviamo in Gran Bretagna, il caso ha sconvolto proprio il pubblico inglese per eccellenza e ovviamente ci sono stati degli strascichi su ciò. Il fatto si sarebbe verificato al 2017 quando la donna avrebbe avvelgavito in occasioni diverse delle compagnie del carcere della Newhall Prison di Wakefield. Con la cosa di stupro Karen diciamo che si sarebbe difesa in quanto si sarebbe tutelata dicendo che prima era un uomo e quindi non era capace di sé o meglio aveva un organo genitale in più. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua, fatemi sapere che interessate. Un saluto e al prossimo dal narratore italiano.